La solidarietà verso le persone in disabilità visiva o cecità assoluta è scaturita in un progetto di volontariato finalizzato a rendere fruibile il mondo informatico attraverso la trasformazione e la catalogazione dei testi in uno scaffale elettronico chiamato Momo. Da qui una serie di iniziative pubbliche organizzate dall'Unione Italiana Ciechi e i povedenti della sezione di Sernia per consentire la realizzazione dell'idea. L'ultima in ordine di tempo è in scena per questa sera alle 21 con uno spettacolo musicale denominato Momo's Got Talent. Musicisti e band emergenti molisane si esibiscono nella sala auditorium della provincia di Sernia in via Berta. Non si paga l'ingresso ma ci si affida al contributo volontario per accogliere dei fondi con l'intento di acquistare un registratore multitraccia utile per la narrazione ai bambini di favole e fiappe. Uno spettacolo inedito che apre un nuovo scenario nel mondo della solidarietà. Noi abbiamo sentito questo contest e abbiamo detto che era molto interessante, era pure a livello di come era strutturato, era fatto molto bene. Abbiamo deciso comunque di partecipare per dare comunque un nostro contributo, mettere al servizio comunque la musica per un fine molto più alto. La musica è una forma d'arte, l'arte è fatta di sensazioni e le sensazioni sono quelle cose che ti fanno capire che sei un essere umano a discapito di tutti quelli che possono essere delle diversità o dei problemi in generale. Coordinatore del progetto il professor Marco Condidorio. I protagonisti di questa iniziativa sono i giovani, i giovani in quanto artisti, in quanto musicisti, in quanto persone che hanno deciso di mettersi alla prova, hanno deciso di mettersi in discussione e lo fanno attraverso un'iniziativa di beneficenza, un'iniziativa sociale volta a sensibilizzare intanto l'opinione pubblica ma soprattutto loro stessi, la società che qualche volta forse presa da un egoismo troppo solipsistico tende a lasciare da parte le cose più significative e le cose più importanti. Questi Studentini hanno da parte la licenza di biglitti di identità, la licenza ai biglietti, la loro partecipazione musicale.